Perché non ci ho fatto l'abitudine, è il terzo ritiro, è la seconda volta che ho l'opportunità di parlarvi da un ritiro perché il primo ritiro eravamo in Austria e non ci avete raggiunto, non ci avete raggiunto in modo da creare una piazza così bella. Però da lì siamo partiti per fare un percorso straordinario e io mentre ero in prima fila ero veramente rapito dagli occhi di questo signore perché in questo signore che si chiama Alberto come me io ho letto l'orgoglio. Ovviamente quando tributo a lui tutto quello che merita e voi avete seguito so che il ringraziamento va a tutte le persone che siedono alla sua destra perché sono persone silenziose, umili, rispettose che hanno il senso dell'umanità e che applicano quelle regole fondamentali per creare il gruppo.